Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione di Telebari. Apriamo questa edizione con la cronaca. Beni per 3 milioni di euro sono stati sequestrati dai carabinieri ad un ex contrabbandiere di Bari. In 30 anni aveva messo su un vero e proprio impero. Sentite. Dichiara al fisco solo 2 mila euro annui, ma il suo patrimonio, risultato di un sistematico reinvestimento di capitali di illecita provenienza, ammonta diversi milioni di euro. Si tratta di Bernardo Di Mario, 50 anni pregiudicato, sorvegliato speciale, già condannato in via definitiva per contrabbando di sigarette, a cui i carabinieri del comando provinciale di Bari hanno sequestrato preventivamente. Beni per 3 milioni di euro. La misura è stata disposta dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale di Bari. Sigilli alla caffetteria del Marchese, a Bari, in via Calefati 147, sequestrati anche 10 conti correnti attivi in 5 istituti di credito, un appartamento lussuoso con box in via Vincenzo Corrado, a Bari, un appartamento in via Dante 312. Un vero e proprio impero, quello costruito illecitamente da Di Mario in 30 anni, dal 1990 al 2017, periodo in cui gli investigatori hanno accertato continui flussi di denaro e operazioni finanziarie. E a Bitonto la polizia ha arrestato tre persone incensurate e ne ha denunciate in stato di libertà altre due, tutte vicine al gruppo Ultras del Bari, ritenute responsabili a vario titolo di detenzione, di strumenti atti a offendere, fumogeni, travisamento e resistenza pubblico ufficiale. I fatti sono avvenuti in occasione dell'incontro di calcio tra il Bitonto e il Taranto. Stando alla ricostruzione dei fatti, alcuni tifosi del Bari si sarebbero recati a Bitonto al fine di vendicare un'aggressione subita dai supporter tarantini, durante la trasferta di Cittanova del 20 gennaio scorso. L'attività informativa e il dispositivo di ordine pubblico predisposto in occasione dell'incontro, quindi ha consentito di individuare un gruppo di 15 baresi travisati e armati di bastoni, pronti ad aggredire i tarantini che, nonostante il divieto di trasferta, erano comunque giunti a Bitonto per seguire la loro squadra. Per immediato l'intervento dei poliziotti è avvenuto prima che cominciasse il deflusso degli spettatori e ha consentito di bloccare tre persone e di disperdere i restanti componenti del gruppo di faci norosi. Per tutti scatterà il DASPO. Ieri abbiamo raccolto le denunce dei residenti del quartierino che da tempo lamentano il degrado della zona, oggi invece vi mostriamo cosa da Palazzo di Città hanno in mente per i problemi segnalati nel quartiere. Prolungamento di Viale Pasterra e connessione con l'estramurale con annessa, riqualificazione urbana e ambientale, nuovo accesso al policlinico, già pronta ma non ancora funzionante, miglioramento della viabilità interna, i nuovi spazi pubblici con centro civico e verde attrezzato. Sono solo alcuni degli interventi previsti da Palazzo di Città sul quartierino che a breve dovrebbe approvare lo studio di fattibilità realizzato. Siamo quindi al primo step progettuale per la zona in questione che a causa del suo peculiare contesto urbano, destinato a ospitare in modo quasi esclusivo servizi per la residenza realizzati poi in minima parte, versa oggi in condizioni di abbandono e degrado fisico come spesso denunciato dai suoi residenti. In particolare su Viale Pasterra il masterplan imporrebbe la messa a norma e la riqualificazione generale della strada, l'ampliamento dei marciapiedi, la realizzazione di un percorso ciclabile con una corsia riservata e la realizzazione di verde posti auto. Sugli spazi pubblici invece l'idea sarebbe quella della realizzazione di una struttura polifunzionale di servizio per i residenti con funzioni di tipo sociale e collettivo. Il progetto inoltre in modo più ampio contempla anche la riqualificazione ambientale urbana di via Capruzzi e del sottopassaggio di via Quintinosella. E l'Udc di Terra di Bari esce allo scoperto per le prossime elezioni amministrativa nel capoluogo e il partito dello scudo crociato correrà al fianco del sindaco Antonio De Caro. Abbiamo avuto modo di interloquire con tutti, di capire programmi e progetti futuri per la città, afferma il commissario cittadino Sergio Adamo, ed abbiamo convenuto che la scelta migliore da compiere fosse quella di tendere ancora una volta la mano a De Caro il sindaco che in questi cinque anni ha dato nuovi impulsi alla città. E ci spostiamo in via Capo Scardicchio, a due passi dall'ospedale San Paolo, spesso luoghi di incidenti a causa della pericolosità dell'incrocio. Guardate. Le segnalazioni sulla pericolosità dell'incrocio si moltiplicano insieme alle denunce sulla cattiva condizione del manto stradale. Siamo in via Capo Scardicchio, a pochi passi dall'ospedale San Paolo, strada percorsa anche dalle ambulanze e spesso sede di numerosi incidenti. E i residenti della zona chiedono interventi urgenti che limitino in qualche modo il rischio per tutti gli automobilisti che percorrono la via in questione o le varie strade che confluiscono in essa. È un progetto sulla zona, in realtà esiste, ma potrebbe vedere la luce non prima del 2020. Ci spiega tutto l'assessore comunale ai lavori pubblici del Comune di Bari, Giuseppe Galasso. Abbiamo un progetto preliminare per l'importo di 3.250.000 finanziato con lo stesso canale di finanziamento di Via Amendola, che è il progetto SISAB. Quell'incrocio è un incrocio oggi in cui convergono molte strade. È un incrocio semaforizzato, un incrocio che ha dei problemi di intasamento. Verrà letteralmente modificato e trasformato con la tipologia rotatoria. Lì dove, al centro della rotatoria, che è una rotatoria di grandi dimensioni, verrà effettuata anche una vasca per la raccolta delle acque. Acque che verranno riutilizzate per scopi irrigui, per irrigare appunto quell'area verde. Un'area verde attrezzata, che noi immaginiamo anche attrezzata a parco. Un po' come avviene per la rotatoria, che oggi è presente a Poggio Franco, di fronte all'attuale sede degli uffici giudiziari, ex palazzo della Telecom. Quindi quell'intervento, da essere un intervento di mera sistemazione stradale, si riconfigura come un intervento di riqualificazione di quell'area che unisce fra di loro delle porzioni del quartiere San Paolo, oggi letteralmente separate da un incrocio e da una strada, che avranno come punto di unione anche un punto di raccolta in cui la gente potrà passare del tempo e avvenire anche degli spazi ludici dove poter giocare. E allora, siamo al nostro live oggi in diretta dall'Istituto Perotti per il premio La Puglia a Tavola. Avremo modo di capire quali sono i caposaldi delle eccellenze pugliesi e delle ricette chiaramente tutte pugliesi. Allora ci colleghiamo con la nostra Barbara Cirillo, qui dove è venuto. Barbara, buonasera. Sì, buonasera Alessandra. In realtà quest'anno la settima edizione del premio Puglia a Tavola coincide con i 60 anni dell'Istituto Perotti e per questo che lo chef Antonio De Rosa che salutiamo, ritroviamo insomma ogni anno come da tradizione, è diventata un po' una tradizione questa per vari, un menù dedicato ai mitici anni 60. Sì, infatti in occasione del sessantennale della fondazione dell'Istituto Alberghiero diciamo che incominciamo con questa prima manifestazione, un po' i festeggiamenti per questa data estremamente importante per il nostro istituto. Per cui così, un po' giocando su quella che è un po' la nostra origine, per cui quella degli anni 60, abbiamo pensato di rielaborare un menù degli anni 60, dei piatti che erano in voga in auge in quel periodo, cercando però di rientrepetrarli in maniera attuale e che siano contestualizzabili oggigiorno. Intanto chiedo al nostro operatore Giuseppe Mondelli di mostrare la bellezza dei colori di queste tartine che saranno l'antre, giusto? Sì, esattamente, sarà il piccolo aperitivo che serviremo per cui un po' in controtendenza a quello che accade in questo momento dove l'aperitivo è sempre estremamente abbondante e tante volte diventa anche esaustivo per l'intero pasto. Invece stasera abbiamo deciso di rispolverare la vecchia e cara tartina che è sempre adatta per iniziare in maniera giusta un evento. Tartino in voga negli anni 60, immagino, così come quali piatti? Che cosa avete cucinato per questa sera? Cosa si mangiava negli anni 60? Ci faccia fare un tuffo nel passato. Allora, negli anni 60 uno dei piatti icona negli anni 60 è stato senza dubbio il cocktail di gamberi, per cui il classico cocktail con la salsa a base di maionese e noi abbiamo reinterpretato un po' questo antipasto con un'insalata di gamberi con una salsa americana anche se in realtà americana non è perché è una salsa bassa di latte di cocco e curry rosso e con una gelatina all'arancia leggermente profumata alla curcuma e delle patate con caprino e limone nero affumicato. Non finisce qui, magari svegliamo altri dettagli nel nostro prossimo collegamento linea allo studio. Grazie Barbara, vediamo l'ora di rincontrarci per assaporare idealmente questi piatti deliziosi. Noi andiamo avanti perché Papa Francesco lancia un messaggio per la 53esima giornata mondiale delle comunicazioni sociali e punta sulla importanza delle relazioni che passano anche attraverso il web. L'intervista a Don Ivan Maffeis, direttore dell'ufficio delle comunicazioni sociali della CEI. Sentite. L'importanza dell'essere in relazione con l'altro anche attraverso la rete, i social network, il messaggio di Papa Francesco. Papa Francesco ci provoca ad essere comunità. La rete è una grandissima risorsa, tanto come accesso all'informazione, alla conoscenza, quanto alla possibilità di stare in rete, quindi di curare le relazioni. Nel contempo ha le regole, come ogni nostra realtà. E se usiamo la rete, paradossalmente, semplicemente per chiuderci tra quei pochi o per rafforzare i nostri pregiudizi o addirittura per alimentarli, buchiamo quella che è la possibilità a cui il Papa ci richiama. Usiamo la rete per costruire comunità. Ecco, i social, un'arma a doppio taglio, possono diventare anche strumento di manipolazione e a volte anche trappola. Lo vediamo a partire dal linguaggio. Nei social, purtroppo, tante volte, ci prendiamo delle libertà che fanno degenerare anche la nostra dignità. Tante volte diventiamo aggressivi. Quanta violenza verbale e non solo c'è nei social. La preoccupazione di educare e di educarci a uno stile diverso, credo che sia il punto di partenza elementare, se vogliamo davvero costruire. Bene, siamo in chiusura, ma restate con noi tra poco a Rassegna Stampa con Alessio Viola, editorialista del Corriere del Mezzogiorno. Tra poco. Eccoci ancora qui in diretta per il consueto spazio dedicato alla Rassegna Stampa. Commenteremo cronaca, politica, e chi più ne ha più ne metta con Alessio Viola, giornalista ed editorialista del Corriere del Mezzogiorno. Ciao Alessio, buonasera e benvenuto. Parliamo, però partiamo con cose belle, perché stiamo parlando della cucina tipica pugliese, in un premio che si chiama La Puglia a Tavola, in diretta dall'Istituto Perotti. Non so se siamo in grado di collegarci con la nostra Barbara Cirillo e anche, devo dire, un live abbastanza difficile da digerire a distanza, è il caso di dire una metafora calzante. Barbara, vengo da te. Sì, allora, vi rendiamo il compito più difficile, anzi, la serata più difficile, perché continuiamo a far venire l'acquolina in bocca come Chef De Rosa. Poi, dopo questo primo antipasto, avremo un piatto che ricorda un po' l'insalata di carne simmental, per cui faremo un piatto caldo in cui serviremo manzo cotto in brodo, per cui leggermente salmistrato, servito con un consomme di manzo, con dei fagiolini, pomodoro confit e delle uova cotte a bassa temperatura. E poi? Poi torniamo indietro alla vecchia cara Paglie Fieno, per cui si preparava con la panna, il prosciutto e i piselli. Noi invece abbiamo realizzato dei piccoli raviolini di pasta all'uovo verde, per cui pasta agli spinaci e pasta all'uovo tradizionale, farciti di prosciutto e formaggio, che serviremo con una salsa di piselli montata all'olio extravergine d'oliva e un'emulsione al latte di mandorle e filetti di mandorle. E poi ci sarà il dolce, giusto? Però quello magari lo svegliamo più tardi, perché chiudiamo in bellezza così il nostro live. Allora, Chef, io la lascio lavorare, continuare a lavorare. Siete qui dalle otto con tutti questi ragazzi. Quanti sono? Eh, non lo so, ho perso il conto, veramente. Ho perso il conto. Sono tutti dell'ultimo anno, giusto? No, sono anche ragazzi un po' più piccoli, per cui ci sono quelli che si affacciano, per cui c'è qualche ragazzino del secondo anno, poi ci sono tanti del terzo anno, qualcuno del quarto, un paio che sono in uscita, per cui i ragazzi del quinto anno. Per cui diciamo che questi momenti per noi sono comunque momenti in cui cerchiamo di coinvolgere un po' tutti i ragazzi che hanno voglia, che hanno interesse e quindi riusciamo a vivere dei momenti che vado anche al di là di quello che è la quotidianità della scuola. Forse è il vero spirito poi di queste serate. Sì, infatti. Grazie, grazie allo Chef Antonio De Rosa, grazie per averci illustrato, insomma, la bellezza di questa sera. Grazie. Sì, al prossimo anno. Magari più tardi, chi lo sa? Altro poco. Grazie Barbara. Beh, c'è da dire che la cucina adesso sta vivendo un nuovo protagonismo, complice anche di tutte le varie trasmissioni a livello nazionale. Un nuovo protagonismo e sta soprattutto diventando davvero una vera e propria arte, oltre al fatto che è bene ricordarlo, la cucina è indubbiamente cultura, no? Perché si può, attraverso le varie contaminazioni, capire che cosa è accaduto nella geopolitica. E' una vera e propria epidemia, in realtà, perché ormai non c'è rete televisiva, online, streaming, a qualunque livello che non abbia un programma televisivo sulla cucina. I cuochi sono diventati delle pop star vere e proprie, stanno sempre in televisione. Io dubito che sappiano più cucinare, perché un cuoco che passa il suo tempo in televisione tra gare, trasmissioni, fornelli vari, eccetera... Attenzione, si chiamano Chef. Ah, si chiamano Chef. Parlo, io gli ho Chef. Secondo me hanno dimenticato come si fa la carbonara, come si fa una matriciana, insomma, e fanno queste cose terrificanti, la cucina molecolare, cose ignobili, che però vengono diffuse fra le masse. La cucina è l'oppio dei popoli, attualmente. E' vero, un'arma di distrazione di massa. Ben venga, però, no? Ha preso il posto della religione, insomma. È l'oppio dei popoli, la cucina. Ben venga, Alessio, perché se vediamo quello che sta accadendo nel panorama nazionale, soprattutto è anche locale, politico, insomma, forse è meglio dedicarsi... È meglio non guardare. ... alla cucina. Ma ne parliamo tra poco, perché diamo spazio alla cronaca. Abbiamo aperto il nostro telegiornale con questa operazione nei confronti di un ex contrabandiera che aveva messo su un vero e proprio impero negli ultimi tre anni. Più che altro ci dà lo spunto per parlare anche a relazione a quanto detto ieri in Prefettura, delle operazioni di cronaca svolte sul nostro territorio nel 2018, mentre diminuiscono gli omicidi, aumentano però i sequesti di droga. Questo dato è un dato importante, perché la conferma di quanto il traffico di droga sia ancora un business molto fiorente delle organizzazioni criminali, che poi crea effetti a cascata. Ne abbiamo parlato spesso anche nei nostri talk, con un numero dei consumatori di droga destinato purtroppo ancora ad aumentare soprattutto tra le fasce giovani. C'è un semplice ragionamento deduttivo. Se aumentano i sequesti di droga, vuol dire che è aumentato il traffico di droga. Se è aumentato il traffico di droga, vuol dire che è aumentata la domanda di droga, cioè ci sono più consumatori, più tossici. I dati che circolano in questi giorni ci dicono anche di come siano aumentati in maniera impressionante i consumi di eroina, per esempio, che sta riprendendo, c'è questa lotta tra eroina e cocaina per la testa della classifica. Ora pare che l'eroina stia riprendendo la testa della classifica dei consumi, perché è più a buon mercato probabilmente. Fatto sta che questa droga rimane il secondo grande business dei clan mafiosi, perché il primo business è ormai il traffico di esseri umani. Questo indiscutibilmente è dati alla mano. Per quanto riguarda la droga, il discorso della lotta della droga è sempre quello, è la lezione che ci veniva dagli americani tanto tempo fa, da Falcone. Follow the money. Segui il denaro. Inutile mandare i motoscafi in mezzo all'Adriatico a cercare le barche dei contrabbandieri. Seguiamo il denaro. A quanto pare questa volta, seguendo il denaro, abbiamo trovato milioni di euro, investimenti, riciclaggio, negozi in centro, bar, alberghi, ristoranti, di tutto. Questo denaro è dappertutto nella nostra economia. Cambiamo argomento e passiamo alla politica, perché fanno ancora discutere le primarie... Di cucina parliamo tra poco, dulcis in fundo, parleremo anche del dolce, quindi lo facciamo così per stemperare gli animi, perché nel Partito Democratico insomma è ancora una dialettica, è ancora molta dialettica, così come viene spesso definita, che però ha il sapore di una resa dei conti. Adesso è Emiliano che grida il complotto con riferimento a Vendolo e Renzi, re di voler non vincere, ma far perdere lo stesso Emiliano. È un momento in cui si sta cercando di ricompattare le anime interne al Partito Democratico, ma insomma la sensazione è che si vada verso davvero una frattura. Questa parola andrebbe definitivamente, assolutamente bandita dal dibattito politico, complotto. È una parola che davvero stanca, ha stancato. Sono almeno vent'anni dai primi governi Berlusconi che ogni crisi, ogni svolta della politica, ogni momento di tensione viene spiegato con questa parolina magica, complotto. Salvo poi non riuscire a spiegare complotto perché quando c'è un delitto, parliamo qui anche di magistrati, quando c'è un delitto bisogna prima di tutto muoversi dal movente. Un complotto per che cosa? In questo caso, per esempio, si parla di complotto fra Vendola e Renzi, che sono due persone lontane con il giorno e la notte tra di loro. Ora, che Renzi voglia far vincere la destra? Ma può anche esserci. È un uomo di destra, dal mio punto di vista, naturalmente. È un uomo di destra, Renzi, e ci potrebbe anche stare. Vendola, che mi risulti, è ancora una persona di sinistra. È una persona per bene, è una persona con le idee chiare, che si possono condividere o meno. Che due persone così diverse, così lontane tra di loro, si alleno, per che cosa? Per far vincere la destra? Ma in nome di quale linea, di quale proposta? Non c'è. Per far perdere il governatore uscente? Ah, paragoni, il presidente uscente. E perché? Qual è il movente? Qual è di questo delitto, di questo sospetto delitto? Ecco, allora, io dico questa parola bisogna abolirla dal vocabolario. Troppo spesso serve a coprire, purtroppo, la mancanza di progettualità, di capacità di programmare il futuro, di indicare soluzioni concrete, problemi concreti. L'Axilella, c'è un complotto anche sull'Axilella? E se sì, chi sono gli autori del complotto? Aboliamo questo modo di guardare alla realtà. Tra l'altro, visto che hai citato il tema dell'agricoltura, i gelerancioni marceranno su Roma, perché ancora non hanno avuto delle risposte rispetto alle loro richieste per, come dire, dare un ristoro rispetto ai danni subiti, lo ricordiamo, no? Le gelate, poi anche l'Axilella. Insomma, volendo mettere sul piatto della bilancia, questi sicuramente sono i problemi reali, anche perché l'agricoltura rappresenta l'indotto principale, insomma, il settore principale e produttivo del nostro territorio. Sembra che, ecco, su questo stia perdendo, mollando un po' rispetto magari a temi che concentrano l'attenzione. Ma inevitabilmente finirà male, purtroppo. È brutto fare le castanze, ma è così. Perché se, ormai sono diversi anni che stiamo affrontando, stiamo subendo, anzi, il flagello dell'Axilella, ma se le risposte a questo flagello, come un flagello epocale, terrificante, che sta devastando le campagne, sta devastando la nostra identità, se le risposte a questo flagello sono semplicemente giri di valze, nomine, assessori che vanno e vengono, entrano ed escono, commissari che vengono nominati e poi vengono dimissionati, creazioni di agenzie ex novo, si parla anche di creare una nuova agenzia regionale per la lotta all'Axilella, come se tutto il resto dell'amministrazione regionale non dovesse essere impegnati in questo, davvero vuol dire che non abbiamo idee. Questa Axilella, ci sarà un modo per sconfiggere? Penso di sì, come tutte le cose, come tutti i certi flagelli naturali. si è sconfitto l'AIDS, siamo riusciti a sconfiggere, a controllare comunque l'AIDS in tutto il mondo, non riusciamo a far fuori questo maledetto batterio, mi sembra davvero una cosa triste. Che i giri rossi vadano a Roma a protestare, va benissimo, speriamo che abbiano lo stesso impegno dei loro cugini gialli francesi. Giri arancioni, attenzione, perché poi si potrebbe fare... Sì, questo è un arancione, non sono rossi, per carità, non si amare, arancione, giri arancione. Abbiamo parlato di primarie del Partito Democratico, non possiamo parlare di primarie del centrodestra, anche perché colgo l'occasione per anticipare già i nostri telespettatori che domani nel nostro talk dalle 20.30 alle 21.30 metteremo a confronto i candidati alle primarie. Due, in verità, dei tre almeno rimasti fino ad oggi in corsa, ovvero Romito e Melchiorre ci faranno capire quali sono i loro progetti per intanto questa sfida, ma soprattutto per la sfida a Sindaco di Bari, visto che l'alto candidato di Rella ha preferito non partecipare ad un talk. Anche lì c'è un mescolamento delle carte totale, perché ci sono appoggi imprevisti, new entry, chi abbandona, chi abbandona in corsa. Anche in questo caso, insomma, questa sciagura per il sistema politico italiano delle primarie, che abbiamo tentato di scimiotare dagli Stati Uniti, sta veramente facendo danni. è successo in questi anni che le primarie, sia a sinistra che a destra, di fatto si sono risolte in una resa dei conti fra i vari capi bastone locali, i vari capi corrente, ripeto, a destra come a sinistra. In questo caso non si sfugge alla regola. Le primarie sono un fatto diverso, negli Stati Uniti sono un fatto diverso, ora non staremo qui a spiegare il meccanismo elettorale americano, ma sono totalmente diverse. Quando a noi sono occasioni di conta, di scontro, di alleanze, di complotti, non ci vuole, no? Perché ovviamente... È una parola che ormai fa parte del vocabolario politico, no? Ma sì, ma perché è un meccanismo che in realtà favorisce queste aggregazioni, cioè favorisce più le aggregazioni per far perdere qualcuno che quelle per far vincere qualcuno. Forse un passo in avanti decisivo sarebbe la rinuncia di tutti i partiti, di tutte le formazioni a questo brobrio delle primarie. Dovremmo tornare ai sani, vecchi partiti di una volta, che sono stati distrutti. Allora, torniamo al Perotti e ci ricolleghiamo ancora con Barbara Cerillo. Ve lo ricordo che all'Istituto Perotti c'è questa sera, la serata dedicata al premio La Puglia in tavola. Barbara, torno a te. Sì, Alessandra, ci siamo sposati intanto in sala. La potete vedere anche come allestimento, come disposizione di tavoli, tutto in pieno stile anni Sessanta. Sono in compagnia della preside del Perotti, Losangela Colucci. Buonasera. Buonasera. E sono in compagnia anche del vicepresidente della Fondazione Nicolaus, che ha contribuito ovviamente alla realizzazione di questa serata, Roberto Di Marcantonio. Buonasera anche a lei. Buonasera. Buonasera. Preside, allora, un premio che quest'anno celebra i Sessant'anni dell'Istituto, l'abbiamo detto anche prima, un premio che va ad omaggiare ecco le eccellenze tutte pugliesi. Sì, omaggio a tre chef che sono stati individuati, uno per provincia, quindi Bari, provincia di Foggia e provincia di Brindisi, Lecce, ma nello stesso tempo questa edizione settima di Puglia a tavola festeggia i nostri Sessant'anni. L'Istituto Perotti è stato voluto fortemente da Aldo Moro nel 59, quando era ministro della pubblica istruzione, e questa sede, che è la seconda, fu inaugurata da lui stesso nel 1975. quindi stasera andiamo a festeggiare per noi un evento molto importante e soprattutto il menù e tutto ciò che è stato realizzato è stato realizzato appunto per i favolosi anni Sessanta. Lei però non si è vestita in stile anni Sessanta. No, no. Insomma, un evento, una tradizione, lo abbiamo detto prima, a cui contribuisce la Fondazione Nicolaus. Perché? La Fondazione Nicolaus è sempre molto sensibile, particolarmente sensibile a questa, a questo evento. Tant'è vero che per noi è il settimo anno addirittura e mi dispiace soltanto che non sia presente il Presidente al quale mandiamo un pensiero affettuosissimo al Dottor Giordano. Ripeto, c'è il piacere dell'appartenenza a questa manifestazione perché siamo qui da sette anni anche noi e in più festeggiare le eccellenze di Puglia perché questo istituto ormai è un'eccellenza. Tutto quello che si vede è un'eccellenza. Bisogna dire grazie anche alla Tassoressa Colucci che è molto brava nell'organizzazione di queste cose e io la ringrazio molto. Davvero è molto brava perché insomma coordinare una squadra così impegnativa, anche così importante, di giovani, giovani che poi si sono guadagnati, lo dicevamo poco fa, proprio il posto qui stasera e questa è la cosa più importante. Allora intanto iniziano come potete vedere giriamo pure la telecamera per far vedere insomma stanno arrivando i primi ospiti. Allora io vi lascio a questa splendida serata grazie per essere stati con noi. Buona serata. Noi intanto ci spostiamo di nuovo in cucina andiamo a vedere come se la cavano i vostri ragazzi. A tra poco. Grazie Barbara, a tra poco. Tu come te la cavi in cucina Alessio? Io sono un grandissimo cuoco, un straordinario cuoco sia molecolare che multimolecolare. Immaginiamo, no? A un grandissimo livello, sì. Allora grazie. Cicino Troiano in particolare. Certo, in massimo. Grazie a Alessio Viola, editora di Sto del Corriere del Mezzogiorno e anche a scrittore. Grazie per essere stato con noi. Noi ci fermiamo, pausa pubblicitaria e tra poco torniamo con altre notizie. Restate con noi. Ed eccoci ancora qui in diretta. Ripartiamo in questa edizione del nostro telegiornale con la protesta dei gilarancioni in apertura. I trattori dei gilarancioni si rimettono in moto e questa volta puntano verso Roma. Il 14 febbraio le organizzazioni agricole che hanno fondato questo libero movimento della terra daranno vita ad una grande manifestazione di protesta insieme ai sindacati degli operai e ai sindaci contro il governo che hanno disattento alle richieste degli agricoltori del sud per sensibilizzare l'approvazione di misure vere in favore dell'olivicoltura pugliese ed italiana massacrata da calamità naturali senza precedenti. A precedere la grande mobilitazione degli agricoltori pugliesi ci saranno presidi fissi in diversi comuni della Puglia e quanto deciso oggi pomeriggio a Ruvo di Puglia durante l'assemblea che ha visto la partecipazione di oltre 500 agricoltori. Siamo una fabbrica a cielo aperto la più importante in Puglia e in Italia non arretriamo nemmeno di un millimetro è una questione di dignità spiega il portavoce di Gilles Arancioni Onofrio Spagnoletti Zeuli la data della manifestazione simbolica il giorno di San Valentino rinnoviamo la promessa d'amore verso la nostra terra. Il 14 febbraio sarà la mobilitazione nazionale perché bisogna salvare realmente l'olivicoltura italiana conclude Spagnoletti Zeuli serve un decreto con risorse reali ed una serie di interventi per rilanciare uno dei settori più importanti dell'agricoltura italiana. Andiamo avanti con la cronaca Beni per 3 milioni di euro sono stati sequestrati dai carabinieri ad un ex contrabbandiere di Bari in 30 anni aveva messo in piedi un vero e proprio impero sentite Dichiara al fisco solo 2000 euro annui ma il suo patrimonio risultato di un sistematico reinvestimento di capitali di illecita provenienza ammonta diversi milioni di euro si tratta di Bernardo Di Mario 50 anni pregiudicato sorvegliato speciale già condannato in via definitiva per contrabbando di sigarette a cui i carabinieri del comando provinciale di Bari hanno sequestrato preventivamente beni per 3 milioni di euro la misura è stata disposta dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale di Bari sigilli alla caffetteria del Marchese a Bari in via Calefati 147 sequestrati anche 10 conti correnti attivi in 5 istituti di credito un appartamento lussuoso con box in via Vincenzo Corrado a Bari un appartamento in via Dante 312 un vero e proprio impero quello costruito illecitamente da Di Mario in 30 anni dal 1990 al 2017 periodo in cui gli investigatori hanno accertato continui flussi di denaro e operazioni finanziarie ancora cronaca perché a Bitonto la polizia ha arrestato tre persone incensurate e ne ha denunciate in stato di libertà altre due tutte vicine al gruppo Ultras del Bari ritenute responsabili a vario titolo di detenzione di strumenti atti a offendere e fumogeni travisamenti e resistenza pubblico ufficiale i fatti sono avvenuti in occasione dell'incontro di calcio tra il Bitonto e il Taranto stando alla ricostruzione dei fatti alcuni tifosi del Bari si sarebbero recati a Bitonto al fine di vendicare un'aggressione subita dai supporter tarantini durante la trasferta di Cittanova del 20 gennaio scorso l'attività informativa e il dispositivo di ordine pubblico predisposto in occasione dell'incontro quindi ha consentito di individuare un gruppo di 15 baresi armati di bastoni pronti ad aggredire i tarantini che nonostante il diveto di trasferta erano comunque giunti a Bitonto per seguire la loro squadra immediato l'intervento dei poliziotti avvenuto prima che cominciasse il deflusso degli spettatori ha consentito di bloccare tre persone e di disperderne i restanti componenti del gruppo di facci neurosi per tutti scatterà il DASPO ieri abbiamo raccolto le denunce dei residenti del quartierino che da tempo lamentano il degrado della zona oggi invece vi mostriamo cosa da Palazzo di Città hanno in mente per dare risposte ai residenti sentiamo Prolungamento di Viale Pasterra e connessione con l'estramurale con annessa riqualificazione urbana ambientale nuovo accesso al policlinico già pronta ma non ancora funzionante miglioramento della viabilità interna e nuovi spazi pubblici con centro civico e verde attrezzato sono solo alcuni degli interventi previsto da Palazzo di Città sul quartierino che a breve dovrebbe approvare lo studio di fattibilità realizzato siamo quindi al primo step progettuale per la zona in questione che a causa del suo peculiare contesto urbano destinato a ospitare in modo quasi esclusivo servizi per la residenza realizzati poi in minima parte versa oggi in condizioni di abbandono e degrado fisico come spesso denunciato dai suoi residenti in particolare su Viale Passer il masterplan imporrebbe la messa a norma e la riqualificazione generale della strada l'ampliamento dei marciapiedi la realizzazione di un percorso ciclabile con una corsia riservata e la realizzazione di verde posti auto sugli spazi pubblici invece l'idea sarebbe quella della realizzazione di una struttura polifunzionale di servizio per i residenti con funzioni di tipo sociale e collettivo il progetto inoltre in modo più ampio contempla anche la riqualificazione ambientale urbana di via Capruzzi e del sottopassaggio di via Quintinosella L'Udcitra di Bari esce allo scoperto per le prossime elezioni amministrative nel capoluogo il partito dello scudo crociato correrà al fianco del sindaco Antonio De Caro abbiamo avuto modo di interloquire con tutti di capire programmi e progetti futuri per la città afferma il commissario cittadino Sergio Adamo ed abbiamo convenuto che la scelta migliore da compiere fosse quella di tendere ancora una volta la mano a De Caro il sindaco che in questi 5 anni ha dato nuovi impulsi alla città e ci spostiamo in via Caposcardicchio due passi dall'ospedale San Paolo spesso luoghi di incidenti a causa della pericolosità dell'incrocio sentite le segnalazioni sulla pericolosità dell'incrocio si moltiplicano insieme alle denunce sulla cattiva condizione del manto stradale siamo in via Caposcardicchio a pochi passi dall'ospedale San Paolo strada percorsa anche dalle ambulanze e spesso sede di numerosi incidenti e i residenti della zona chiedono interventi urgenti che limitino in qualche modo il rischio per tutti gli automobilisti che percorrono la via in questione o le varie strade che confluiscono in essa è un progetto sulla zona in realtà esiste ma potrebbe vedere la luce non prima del 2020 ci spiega tutto l'assessore comunale ai lavori pubblici del comune di Bari Giuseppe Galasso abbiamo un progetto abbiamo un progetto preliminare per l'importo di 3 milioni 250 finanziato con lo stesso canale di finanziamento di via Mendola che è il progetto Sisaba quell'incrocio è un incrocio oggi in cui convergono molte strade è un incrocio semaforizzato un incrocio che ha dei problemi diciamo di intasamento verrà letteralmente modificato e trasformato con la tipologia rotatoria lì dove al centro della rotatoria che è una rotatoria di grandi dimensioni verrà effettuata anche una vasca per la raccolta delle acque acque che verranno riutilizzate per scopi irrigui per irrigare appunto quell'area verde un'area verde attrezzata che noi immaginiamo anche attrezzata a parco un po' come avviene per la rotatoria che oggi è presente a Poggio Franco di fronte all'attuale sede degli uffici giudiziari ex palazzo della Telecom quindi quell'intervento da essere un intervento diciamo di mera sistemazione stradale si riconfigura come un intervento di riqualificazione di quell'area che unisce fra di loro delle porzioni del quartiere San Paolo oggi letteralmente separate da un'incroce da una strada che avranno come punto di unione anche un punto di raccolta in cui la gente potrà passare del tempo e avvenire anche degli spazi ludici dove poter giocare Allora ultimo collegamento in diretta dall'Istituto Perotti Barbara torno a te Sì Alessandra come promesso chiudiamo in bellezza anche in dolcezza con questa ultima portata il dolce che è un nome tutto particolare fatti tentare dalla tenerezza spiegarcelo la professoressa Antonella Cantarella Buonasera fatti tentare dalla morbidezza in quanto gli elementi di questo dolce sono morbidi qui abbiamo un pane di banana dolce con del cioccolato che è stato imbevuto con una bagna a un liquore di banana abbiamo creato una piccola nuvola con dei fili d'angelo che abbiamo appallottolato e aromatizzati allo zafferano l'altro elemento è il crème caramel con il pepe di Sichuan e poi abbiamo una mousse al yogurt lime quindi come si vede sono tutti elementi molto morbidi una meringhetta stata aromatizzata con delle bucce di lime e del peperoncino abbiamo della salsa al cioccolato bianco e del rum le andiamo a inserire per decorare per dare ancora più sapore al dolce al piatto e poi in ultimo ultima salsina abbiamo una gelè al fashion fruit scusate e poi ovviamente il piatto sarà decorato ne stiamo decorando soltanto uno con dei fiori giusto mi conferma dei fiori eduli in particolare qui abbiamo una foto una fogliolina di acetosella e allora e allora noi vi lasciamo completare questo piatto grazie mille per essere stati con noi grazie soprattutto a questi ragazzi che stanno lavorando lo ricordiamo dalle otto di questa mattina tutto questo insomma non è possibile se la squadra non le ora all'unisono per raggiungere tutti insieme l'obiettivo finale che è quello insomma di allietare i nostri ospiti di renderli felici prendendoli per la gola grazie alla professore Santorella Cantarella Alessandra Dalperotti è davvero tutto buona serata grazie Barbara e grazie ai tuoi ospiti noi siamo in chiusura di questo spazio ma restate con noi perché tra poco con il professor Nicola Laforgia primario di Neonatologia del Policlinico di Bari parleremo dell'influenza siamo in pieno picco influenzale ovviamente essere più colpiti sono i bambini daremo insomma qualche consiglio anche per trattare questa forma influenzale sfatando anche alcuni falsi miti a tra poco amici tra i bimeteo benvenuti a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di venerdì che attenzione potrebbe essere particolarmente delicata per le regioni settentrionali e quelle del medio alto Tireno arriva infatti un'intensa perturbazione atlantica vediamo la nuvolosità prevista sull'Italia nuvole compatte al nord ma anche su gran parte dell'Italia centrale specie sul Tireno invece al sud non mancheranno anche delle parziali schiarite tra l'altro al sud clima anche abbastanza mite come precipitazioni arriva la neve neve su tutto l'arco alpino anche abbondante ma nevicate fino in pianura sulle regioni di nord ovest piogge piuttosto battenti sul medio alto Tireno al nord est e in Sardegna quindi in definitiva giornata invernale al nord dove oltre alle piogge avremo appunto anche delle nevicate fino a quote molto basse sui settori di nord ovest piogge sul versante Tirenico e in Umbria un po' meglio invece sul medio Adriatica all'estremo sud lì non mancheranno delle schiarite e come vi dicevo anche con temperature relativamente miti con questo è tutto ma per i dettagli vista la situazione scaricate l'app gratuita di Trebi Meteo eccoci ancora qui in diretta per il nostro approfondimento ebbene sì il temuto picco dell'influenza dell'epidemia influenzale è arrivato cerchiamo di far chiarezza soprattutto su come trattare i bambini lo facciamo con il primario di neonatologia del politico di Bari professor Nicola Laforgia buonasera e benvenuto buonasera a voi grazie dell'invito allora era stato era atteso ormai insomma si era detto già nelle settimane precedenti che sarebbe arrivato in questo momento storico tra l'altro il picco arriverà forse già nei prossimi giorni di febbraio ma siamo già nel picco gli untori come al solito sono i bambini e sono quelli che stanno registrando come dire una percentuale di contagio maggiore certo è un problema di ogni anno perché ogni anno noi ci confrontiamo con le epidemie di influenza piaccia o non piaccia nel periodo invernale si ha un picco di incidenza di influenza che peraltro si sovrappone a quelle che sono le malattie virali comuni che capitano per tanti bambini non è soltanto l'influenza un bambino che ha la febbre nella stragrande maggioranza dei casi è affetto da un'infezione virale in molti di questi casi in questo periodo si tratta di influenza ovviamente soprattutto per i bambini più piccoli può essere un problema bisogna saperla affrontare non è sempre semplice magari proviamo a dare dei consigli utili intanto diciamo che si può considerare come dire più grave questa forma influenzale perché ha delle complicazioni anche di tipo intestinale perché questo è quello che stiamo registrando molto spesso tra i bambini ma più che più grave ogni anno ci sono delle caratteristiche specifiche magari forme più a interesse respiratore effettivamente in questo periodo in questi giorni stiamo vedendo molti bambini con sintomatologia gastrointestinale che chiaramente complica il quadro perché soprattutto se sono bambini piccoli vomito e diarrea importanti possono portare a disidratazione e chiaramente quel panico che già hanno molti genitori nei confronti della febbre si associa anche a paure che possano esserci complicanze maggiori cerchiamo di capire anche quando è il caso di rivolgersi al pronto soccorso degli ospedali perché in questo momento stiamo registrando comunque molti accessi all'ospedale a volte magari non necessari quindi si espone il bambino anche a rischio di complicazioni questo è bene dirlo però partiamo subito dalla terapia come si cura l'influenza paracetamolo ibuprofene quando uno e quando l'altro allora fammi dire una cosa che penso possa essere utile per tutti non bisogna affollare il pronto soccorso l'idea di andare lì a risolvere il problema e capire di che cose affetto il bambino secondo me deve essere prevenuto dall'intervento del pediatra di famiglia i pediatri di famiglia sono disponibili sono disponibili anche a vedere i bambini a casa quando è necessario o in studio quando le condizioni lo permettono e non è importante soltanto che il pediatra visiti il bambino ma soprattutto sia in contatto continuo con la famiglia magari rivederlo a distanza di 24 48 ore perché quello che può essere il quadro clinico in un certo momento può poi cambiare andare direttamente al pronto soccorso significa affollare il pronto soccorso rischiare di prendersi altri manattie perché stai in un ambiente dove sei a contatto con la qualunque come si dice e ovviamente ti vede un medico che non conosce la tua storia clinica che non conosce la famiglia e in quel momento magari iper preoccupato e magari si affollano di ricoveri i reparti che invece devono essere liberi per poter affrontare quelle situazioni che davvero hanno bisogno di ricovero se accade di notte professor Laforgia che si fa? allora se accade di notte intendiamoci se il bambino comincia ad avere la febbre di notte e comincia a trattarla come dicevi col paracetamolo o con l'ibuprofene tieni sotto controllo la febbre non succede niente se il bambino ha 12 ore 24 ore di febbre da controllare con l'antipiretico è chiaro che se poi continua è assolutamente necessario che lo veda un medico la prima febbre alle 8 di sera a mezzanotte o alle 3 va trattata con l'antipiretico senza fare nulla stiamo parlando ovviamente di bambini che hanno solo la febbre e non hanno condizioni particolari perché se il bambino è particolarmente abbattuto o c'è una situazione non chiara quella può essere quella può essere un'indicazione ad andare al pronto soccorso la febbre no dicevo soltanto è utile perché lo diciamo lo dicono anche le linee guida nostre quando si affronta la febbre con un antipiretico continuare con quell'antipiretico cioè tachipirina o ibuprofene piuttosto che alternare l'uno l'altro ci sono bambini che rispondono di più alla tachipirina ci sono bambini che rispondono più all'ibuprofene utilizzare quello che magari in altre occasioni può essere stato efficace quello che accade professor Laforge è che intanto la febbre sappiamo che è un meccanismo di difesa del corpo quindi molti pediatri insegnano che più si tiene la febbre insomma senza passare all'attacco con l'antipirina meglio è perché così il corpo si abitua a combattere contro questo virus sì ma diciamoci la verità perché lo dico a una mamma e molte magari ci sentiranno qual è la mamma che si tiene il bambino con la febbre perché la febbre sta combattendo il virus come o il batterio nei casi più rari la mamma ovviamente vuole vedere il bambino che si sfebbra perché c'è purtroppo l'ansia che la febbre possa rappresentare qualche cosa di particolare fino ad arrivare a quei falsi miti parlavamo prima di falsi miti che la febbre alta possa provocare qualche cosa il contrario cioè un problema importante può dare la febbre alta però nella stragrande maggioranza dei casi i bambini hanno febbre alta per banali infezioni virali quindi va controllata la temperatura perché chiaramente facendo scendere la temperatura il bambino sta meglio la mamma sta meno ansiosa però ripeto se poi la febbre persiste il medico lo deve vedere in questo caso siccome molto spesso insomma sentendo anche tra altre mamme quelle classiche quel classico intervallo temporale tra l'assunzione di una medicina e l'altra assunzione sono sei ore dovrebbero intercorrere laddove invece la febbre non si abbassasse o comunque tendesse a risalire in poco tempo che cosa si fa in questo intervallo di ore per farla abbassare? allora il discorso dell'intervallo di un certo numero di ore è perché quel determinato farmaco che tu utilizzi ha un tempo diciamo una durata del suo effetto è chiaro che se magari non ha risposto alla tachipidina e la febbre continua a salire in quel caso può essere utile provare con un alto antipiretico senza aspettare le sei ore quell'intervallo che noi diciamo per lo stesso antipiretico è per evitare un iperdosaggio che tu dai 10 supposte di tachipidina al giorno o 10 somministrazioni di Nurofen quindi usare quello che magari si è sempre usato verificare non dopo mezz'ora ma 1 ora 2 ore non tenere il bambino molto coperto parlavamo prima prima che si accendessero le telecamere spugnature non spugnature i rimedi della nonna allora qua c'è di tutto le spugnature con l'aceto le spugnature con l'acqua fredda ormai non sono consigliate perché questo cambio brusco di temperatura può non far bene l'aceto lasciamo per le insalate ma l'acqua fredda potrebbe creare vasocostrizione brivido il bambino tenerlo scoperto sufficientemente scoperto magari in una stanza dove la temperatura anche ambientale non sia troppo alta perché quello ovviamente favorisce la discesa della febbre il cortisone è il male assoluto fa male si può prendere quando si può prendere sì o no allora il cortisone lo deve prescrivere il medico è l'ultimo dei rimedi da utilizzare per la febbre non è necessario partire con il cortisone è un farmaco fantastico perché molto spesso ha un effetto abbastanza rapido però non va utilizzato facendolo in un abuso perché comunque è un farmaco da parecchi effetti collaterali quali sono le complicazioni che dovrebbero come dire indurre qualche sospetto far stare in allerte ai genitori per quel che riguarda l'influenza sapevo che arrivava la domanda difficile perché normalmente diciamo la forma virale o l'influenza se parliamo dell'influenza dura 2-3 giorni ma stiamo vedendo in questo periodo forme che possono durare anche più dei canonici 2-3 giorni 4-5 giorni allora lì è necessario ancora una volta che il pediatra valuti il bambino perché può accorgersi di qualche segno che potrebbe essere non la banale influenza ma qualche cosa che si è sovrapposto all'influenza e sta creando maggiori problemi e lì magari può essere necessario fare una certa terapia è chiaro che in qualche caso può essere utile fare degli esami del sangue può essere utile fare una radiografia però non deve essere autoprescritta magari dopo 24 ore come dicevamo prima ma facendo una valutazione generale dello stato del bambino vorrei dire a tutti quanti per favore non vi fidate di soltanto consigli telefonici di whatsapp con fotografie con messaggi il bambino va visitato non ogni 5 minuti ma un bambino visitato dal pediatra che dopo 48 ore non ha cambiato la sua situazione in meglio va rivisitato il pediatra deve rivisitarlo se c'è un'evoluzione da infezione virale a infezione batterica in quel caso è prescritto e consigliabile utilizzare sempre l'antibiotico o no? allora facciamo chiarezza anche sul fatto che l'influenza lo sappiamo non si cura con gli antibiotici l'antibiotico va dato quando il medico sospetti una sovrapposizione batterica o se ha fatto degli esami e conferma gli esami confermano che ci sia una sovrapposizione batterica l'uso eccessivo di antibiotici fa male non fa male solo al bambino fa male perché seleziona germi resistenti poi dobbiamo usare antibiotici più forti quindi bisogna essere molto cauti purtroppo c'è ancora l'idea che se il bambino ha febbre alta va dato l'antibiotico non è così il bambino deve prendere l'antibiotico se il medico glielo prescrive anche i medici i miei colleghi pediatri tante volte sono indotti dalle mamme a dare l'antibiotico perché così stiamo tranquilli stiamo tranquilli che non succeda niente non funziona così perché si fa una cosa che non è corretta la caratteristica di questa influenza dicevamo che molto spesso colpisce anche l'intestino in caso di disenteria in caso di vomito come bisogna procedere oltre ovviamente all'antiepiretico fermo restando che ripeto l'autocura non va bene quindi bisogna seguire il consiglio del pediatra il vomito non va bloccato salvo che non ci siano indicazioni specifiche per condizioni particolari il vomito è un meccanismo di difesa dell'organismo che si libera anche del virus in qualche maniera così come la diarrea non va bloccata la cosa importante è mantenere un equilibrio tra quello che il bambino perde e quello che il bambino riesce a prendere reidratandolo in maniera adeguata lì ci vuole molta pazienza da parte delle mamme o dei genitori piccoli cucchiaini di soluzioni di reidratante anche della banale acqua e zucchero non in grosse sorsate perché chiaramente se il bambino ha come si dice in inglese l'urto del vomito vomiterà di nuovo ma se riesci ogni 2-5 minuti a dargli acqua e zucchero a dargli soluzioni reidratanti questo compensa quello che perde però anche lì se le cose diventano più problematiche allora bisogna intervenire per il rischio di disidratazione quelle possono essere delle complicazioni fammi dire una cosa ovviamente noi parliamo del bambino bambino vuol dire da zero a 14 anni la maggior cura la maggiore attenzione la dobbiamo mettere soprattutto nei bambini più piccoli diciamo i bambini del primo anno di vita e a maggior ragione il bambino del primo mese di vita un bambino nel primo mese di vita che ha la febbre subito o nei tempi abbastanza rapidi deve essere visto dal pediatra perché quella febbre può essere indice di altro rispetto all'influenza o la forma virale il bambino del primo anno di vita è un bambino da guardare con attenzione soprattutto se ha le patologie che riguardano l'apparato gastrointestinale perché lì la disidratazione è più veloce e c'è un rischio maggiore il cinghialotto di 6 anni che pesa 40 kg prima di disidratarsi ce ne vuole quanto più o meno? dipende dall'entità del fenomeno ovviamente dal fatto che poi non riescono ad alimentarsi c'è un altro problema che spesso succede nei bambini che è il famoso acetone che è un circolo vizioso il bambino vomita poi continua a vomitare perché non ha più zuccheri lì un altro consiglio facile da utilizzare a casa è dare roba zuccherata non grassi cioè non cioccolato panna ma neanche il latte ma dare soluzioni reidratanti caramelle dare qualche cosa coca cola coca cola andiamo per la gola no anche perché per esempio proprio negli Stati Uniti viene utilizzata abbastanza frequentemente a livello domiciliare come qualche cosa che ti ripristina sono estremamente zuccherati il ghettore della coca cola la panta magari facendole sgassare un po' perché sennò possono dare un po' di ripienezza dello stomaco ma sono utili proprio per l'apporto di zuccheri visto che siamo in chiusura soffermiamoci per un attimo soprattutto nei primi giorni di vita non si conosce ancora come dire non si conoscono ancora le reazioni del bambino ci può essere un rischio di convulsioni in quali soggetti insomma come gestire le eventuali convulsioni allora il rischio di convulsioni c'è non nei primi giorni di vita il rischio di convulsioni è più tipico delle famose convulsioni febbrili ovviamente parliamo non di bambini che hanno altre patologie del bambino tra virgolette sano nel periodo che va più o meno dai sei mesi fino ai cinque anni di vita lì la convulsione nel bambino predisposto è un fenomeno sostanzialmente benigno ovviamente fa paura perché vedere un bambino che fa la convulsione non è proprio una cosa piacevole però dipende dal fatto che quel bambino è predisposto ad avere quella reazione anche a una risalita di febbre non eccessiva basta anche 38-38 e mezzo può avere la convulsione febbrile allora lì la prima volta ti spaventi la seconda volta sai che devi intervenire subito facendo rimanere sotto controllo la febbre ed eventualmente il pediatra ti darà anche dei farmaci da utilizzare per via rettale per bloccare la convulsione e poi ovviamente farlo vedere allora siamo in un'altra cosa posso dire scusami se però c'è il problema anche vaccino anti-influenzale allora vorrei dire che ormai è stato sdoganato completamente la possibilità di vaccinare tutti i bambini per l'influenza dopo i primi sei mesi di vita questo non vuol dire che nei primi sei mesi non si debba fare per chissà quali ragioni però non ci sono studi sufficienti e questo è un segnale anche che quando si fa qualcosa per i bambini si studia non è che si inventa però dopo i sei mesi di vita è suggeribile se si può usare questo termine fare il vaccino anti-influenzale che fino a un po' di tempo fa consigliavamo ai genitori per proteggere anche il bambino fatelo anche ai bambini perché come abbiamo detto le complicanze sono significative è un vaccino talmente sicuro che si può fare in gravidanza nel terzo trimestre di gravidanza per proteggere la gestante che è in momento diciamo di rischio immunologico perché immunodepressa quindi i bambini dopo i sei mesi con il pediatra possono tranquillamente essere vaccinati va anche detto che non è che facendo il vaccino non si ammalano più non prenderanno l'influenza di quell'anno che quando è piuttosto importante è un sollievo anche per la famiglia siamo usciti da questo tunnel no? ce ne vuole ancora? no no ci vuole ancora un paio di settimane almeno se non di più tanto poi ci sarà qualche alta forma virale soprattutto i bambini che poi vanno all'asilo se le passano l'uno con l'altro grazie al professor Nicola Laforgia nel primario di neonatologia politica di Pari grazie per essere stato con noi e grazie a voi per averci seguito vi auguro un buon proseguimento di serata grazie a tutti